Euro-Dollaro analisi giornaliera 24 marzo 2015 FXEmpire.it La coppia Euro-Dollaro apre la sessione di lunedì in gap rialzista per poi invertire nuovamente il ribasso e testare quota 1.08. L'area ha offerto supporto sufficiente per un rimbalzo tecnico e un successivo test di quota 1.10. Tuttavia questo livello dovrebbe fungere da massiccia resistenza e d'altronde la cosa non dovrebbe stupirci visto come in precedenza abbia funto a lungo da supporto. Siamo quindi in attesa di una qualche candela ribassista per tornare a vendere.